Ok, quindi volete trovare una casa? E come? Questa è la domanda. C'è un piano A e un piano B. Che cosa sai riguardo alle astronavi della NASA? L'intera struttura è progettata come un'astronave. Sì, è come una stazione spaziale per il piano A. E come può sollevarsi da Terra? Le prime anomalie gravitazionali hanno cambiato tutto. Innanzitutto, la teoria della gravità è relativa. E quindi abbiamo fatto una teoria e cominciato a costruirla. Questo è da pazzi.